E ora invece ci spostiamo ad Andria in preparazione alla festa dei Santi Patroni della città, il triduo in cattedrale apposto al centro della riflessione e l'eucaristia in concomitanza con il congresso eucaristico nazionale in corso a Genova sino a domenica 18 settembre. A presiedere l'esposizione eucaristica e i Vespri, Sua Eccellenza Monsignor Di Molfetta, Vescovo Emerito della Diocesi di Ascoli, Satriano, Marilena Pastore. Inizia il triduo in preparazione della festa dei Santi Patroni per la città di Andria, un momento importante anche per riscoprire il messaggio della eucaristia sorgente della missione, questo il tema anche in preparazione al congresso eucaristico nazionale. Certo, è una coincidenza direi molto particolare che gli organizzatori abbiano voluto unire insieme la coincidenza con il congresso eucaristico nazionale di Genova nella festa dei Santi Patroni. E credo che ogni testimonianza martiriale o dei confessori della fede, quali sono i patroni e i Santi, costituiscono un forte richiamo per tutti quanti noi, ecco, a uscire da se stessi per andare oltre. Questo è il senso della missione, uscire da proprio egoismo e partecipare a quella che è la nativa vocazione del cristiano ad andare verso l'oltre, verso l'alto, ma senza però dimenticare gli altri e le vicinanze delle persone con cui siamo chiamati a condividere. E l'eucaristia diventa esattamente questo fermento, questo pane del cammino che ci aiuta anche a sfamarci e anche a sostentare gli altri. Quindi perciò, ecco, nella ricorrenza della festa dei Santi Patroni e la concomitanza con il congresso è una di quelle, direi, coincidenze molto significative. Anche per noi la festa dei Santi Patroni in genere coincide anche con l'inizio delle attività pastorali in diocesi e in tutte le comunità parrocchiali della città di Andria. E pertanto è anche un'opportunità attraverso il programma pastorale che il Vescovo consegnerà a tutta la diocesi, ripartire insieme sul territorio e chiaramente avendo anche come riferimento ciò che la Chiesa italiana sta realizzando, sta svolgendo e in modo particolare questa attenzione anche al congresso eucaristico nazionale. D'altronde tutto parte dall'eucaristia, come ricorda il Concilio, fonte e culmine non solo dell'azione liturgica, ma anche di ciò che scaturisce dall'azione liturgica. Quindi la carità e l'apertura verso il prossimo e credo che mai come in questo momento particolare deve essere ancora più evidente e vissuta dalla nostra comunità.